Sono io che compilo le schede, ma... Buongiorno. Collega, io non lo sapevo. Allora, perché la Ferraris pensava che... Buongiorno. Buongiorno. Ma cosa mi combina? Io ometto e lei spiffera. Mi scusi, sono mortificata. E che io avevo capito, insomma, mi sembrava chiaro che lei l'avrebbe scritto nella scheda. Altrimenti non gliel'avrei certo detto io che non ero sposata. Mi ha fatto prendere una ramanzina. Quarant'anni di carriera immacolata. Io, io lo sapevo che questa ispezione andava a finire male. Me lo sentivo. Mi dispiace. Dispiace più a me, mi creda. Eh no, mi scusi. Lei avrà anche preso una ramanzina, però io perdo il posto. Maestra Ferraris. Lei continua a trattarmi come se fossi un uomo privo di sensibilità. L'ispezione è finita. Io ho preso un richiamo, ma... Ma lei è confermata. Sto scherzando? No. Grazie, grazie. 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 Grazie.